Signore e signori, buonasera, questa è Minecraft Ita, io sono Suri, siamo pronti? Siamo carichi? Andiamo, abbiamo aspettato anche troppo. Pozione della visione mortacci mia, in che cosa mi sono cacciato? Va bene, siamo carichi? Per il cazzo, manco per il cazzo siamo carichi ragazzi. Ecco qua, allora, iniziamo alla grande, iniziamo alla grande con dei problemi, perché io qui ho creato la mia scaletta non conscio del fatto che avevamo un problemino. Il nostro problemino si chiama coso, sì, non è il suo nome, però lo chiameremo così. Allora, mettiamo un po' di lana e creiamo subito uno spaziettino così. Così, quello ha un blocco. Allora, ora, momento della verità, perché questo è il momento migliore per testare questa cosa. Abbiamo un solo sensore, io cammino, sto camminando, ma lui chiaramente non può farci nulla, perché c'è il sensore, ma è il sensore occupato, nel senso non può fare niente. Abbiamo un altro sensore, lo andiamo a distruggere al volo, perché non voglio sentire né vedere nulla. Ora, distruggiamo anche questo, perché non vogliamo che generi altri sensori, ma in teoria, ad oggi, se io ora vado a levare questo, non succede nulla. Ok, perfetto. Che ansia, che ansia. Allora, recuperiamo un po' di questa lana, perché ce ne servirà, e poi nell'ultima puntata abbiamo fatto un po' una cazzata a fare quella base così, perché... Oh, ho sentito un rumore. Ok, non ho capito bene il catalista, come funzionano, come non funziona per la generazione. Noi iniziamo... Ah, ma vedi che c'è anche qui della lana? Beh, non ho male. Allora, questo penso che sia in qualche modo l'ingresso della struttura. Urca, guarda lì. Guarda quanti sono. Proviamo a salire le scalette. Vediamo subito dove ci porta salendo le scalette. Allora, abbiamo questa specie di portalone, dove è pieno di sensori, tra le altre cose. Allora, a noi i sensori non preoccupano, perlomeno, non per il momento. Ma cos'è questa? È tipo una torre... Sono strutture molto strane, eh? Bisogna dirlo. Bisogna dirlo, sono strutture strane. Però qua non c'è nessun tipo di sensore, né nulla. Cioè, io in teoria posso cadere qua, rompere tutto. Siamo serenissimi? Mamma mia. Se siamo serenissimi. Ok, siamo la serenissima repubblica di Venezia. Da quanto cazzo siamo sereni? Andiamo avanti. Allora, di qui anche siamo belli pieni. Però se io non vedo contatti, cioè se ci sono dei blocchi di mezzo, possiamo distruggere, in teoria. Allora, no, aspetta. Stavo per fare una cazzata. Non è che se non c'è un contatto diretto, allora non funziona. Deve essere bloccato da un blocco che attutisce il rumore. Perché altrimenti qua è un secondo che ci ritroviamo con delle situazioni alquanto spiacevoli. Giusto? Allora, ecco. Ad esempio qui. Perché c'è un teschio? Tra l'altro bellissimo. Questo me lo porto a casa. Allora, lì abbiamo... Ecco, ecco. Vedi? Uno, due. Qua ne abbiamo già tre. All'appello. Non buono. Non buono. Allora, andiamo come prima cosa con lo shift in tutto questo. A rendere ineffic... Eh no, eh bene, vedi. Però abbiamo un problema. Guarda che pezzi di maledetti. Allora, con molta calma. Allora, come faccio io a rendere questo inefficace così? Cioè, non posso renderlo obiettivamente inefficace, giusto? Spero di sì. Allora, prima di qua. Perché vedi? È proprio posizionato in un modo un po' strano. Andiamo di qui. Cioè, tipo questi che sono proprio accanto. Come faccio io? Mi piazzo un po' a destra e a sinistra. Allora, blocchiamo anche questo di qua e valutiamo se non sia stata una scelta... No, ecco, qui è impossibile. Questo per forza verrà preso. Come faccio? Cioè, questo è lo spawn della morte. Capisci? O ci blocchiamo così? Facciamo un tentativo? Questa cosa mi spaventa tantissimo. Il fatto che sia tutto circolato dagli slab. Non capite quanta paura mi fa questa roba qua. Ora, vogliamo bloccare anche gli altri un momento. Ma cos'è quello? Quello non è uno shrieker, shuker. Cos'è? Sono tipo candele? Oddio, guarda quanto... C'è pieno, è pieno. Oh, regà, che dire. Ci proviamo? E se viene il warden? Se viene il warden scappiamo. L'unica cosa che mi viene in mente. Obiettivamente è l'unica cosa che mi viene in mente. Allora, devo stare attento perché se ne perdo uno per strada, siamo appunto a capo. Anzi, altro che punto a capo. Siamo morti. Proprio morti. Che ansia. Che bisogna ripulire tutto. Questo è l'ultimo che ripuliamo. Più l'ultimo, perché in qualche modo su me è lì ci arriva. Tipo? Questo posso distruggerlo? Ok, sembrerebbe di sì. Proprio distruggere questo? Ok. E... Dobbiamo distruggere questi... Oh, vedi? Questo forse si è attivato? No dai, secondo me no. Ok, allora. La chiave è distruggere prima i maledetti. Distruggendo i maledetti... Non dovremmo avere problemi. Ok. Ok. La ansia comunque è elevata. Dobbiamo salire le scale? Saremo le scalette. Con uscite la madonna. Oh, però ci sono delle ceste. Ok. Allora, con molta calma, andiamo a bloccare tutti gli input possibili, immaginabili. Abbiamo solo quello come Shriekera. Shrooker. Come cacchio si chiama? Ah, io credo di sì. Oddio, sto già per... Sono già passati i dieci minuti. Ma i mortacci? Ma ho bisogno di molte più cose. Allora, in teoria ho... Se questo è l'ultimo... Oddio, che paura. No. Non volevo assolutamente toccare quel coso. Oh. Oh. No, no. Qualcuno stava urlando. Che ansia incredibile. Ok, dai. No, dovremmo... Dovremmo essere a posto. O c'è uno Shrooker qua sotto? Sì, secondo me ce n'è un altro a qualche parte. Dov'è? Ti sento. Lo sento, ma non solo. È anche bello forte. E lì c'è uno Shrooker, vedi? Bisogna stare attenti. Allora. Vogliamo aprire la cesta? Dai, ragazzi, non me possiamo aprire... No, 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 no. Cazzo è il maledetto? Lì c'è un'altra cesta. Ok. Disk fragment. Pozione di rigenerazione. Uh, Swift sneak. Bello. Questi sono i libri che si possono trovare solamente qui. Quindi, non male. Senti, io ti sento, ma non capisco dove cazzo sei. Qua invece, allora, un botto di ametistro, il carbone lo prendiamo, i libri anche, le ossa non ci servono, le libri non ci servono, protection non ci serve, ma... other side. Uh, questo è raro in teoria. E la probabilità di trovarlo non dovrebbe essere neanche troppo elevata. Ok, andiamo di qua. Andiamo di qua e ci andiamo con della lana, perché abbiamo uno shrieker di qui. Urca. Questo è lo shrieker maledetto, però, eh. Allora, finché è solo qui lo shrieker dovremmo essere abbastanza sereni. Nel senso, finché c'è solo questo, non dovrebbe mandare il segnale da nessun'altra parte. Quindi io dovrei essere, no, di fare così. Oh. Oh, minchia, si sono incazzati un botto. Orca puttana. Orca puttanissima. Io me ne vado. Me ne vado. Me ne vado. Non c'è? Ok, non c'è. A quanto pare c'era uno shrieker vicino, ragazzi, perché... Per fare questo casino... Oppure... Oppure non c'era lo shrieker, ma semplicemente... Eh, quando sono accanto, comunque in qualche modo lui lo sente. Eh, no, 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 incazzatissimo. Incazzatissimo, eh. Spawnato, per forza. Dove cazzo è lo shrieker? Io mica l'ho visto. Madonna che ansia. È qui? Eh, no, non c'è. Però ho capito che abbiamo un problema, così... Mortacce mia, non so manco da dove sono arrivato. Di là? Sì, sono arrivato da di là. Mamma mia, che ansia. Che fottutissima ansia. Ora, e qui si l'ho distrutti, però... Mi sono legge il dubbio. Che non basti. Capito? Tipo... Eh, io su cui ho distrutto le cose... Ma è prima di distruggere questo? Ah, minchia, ce ne sono due di shrieker, comunque. Tre, minchia, quanti cazzo sono? Allora, in teoria, ora posso aprire questo senza problemi. Unbreaking tram ending. Guarda, me lo... Ma io ho tutta l'armatura con me? Pazzo! Pazzo! No, no! Per fortuna che mi ha dato sta roba, me ne sono reso conto. Si torna a casa. Si torna a casa, ma... Oddio! No, no, no! No, no, no! Non volevo fare tutto sto casino, mi dispiace. Dove cazzo sono sti shulker cosi che sto attivando io? Tra le altre cose, eh? Mi piacerebbe saperlo. Quale grandissima cazzata stavo per fare io, eh? Allora, di qua dovremmo essere sereni, giusto? C'è l'entrata... È qui. Allora. Di qua c'ho la scaletta e salgo a casa. Ah, quale grande cazzata che stavo per fare. Con la mia elitra, tutte le mie... L'armatura di nederite. Metti da parte subito. È subito, eh? Guarda, indossiamo questo che abbiamo trovato. Torniamo giù, guarda, ne approfittiamo per sfruttarci un po' l'inventario di alcune cose inutili. Cioè, inutili. Belle. Alcuni drop già fighi, tipo il libro dello Swift Sneak. Prendiamo la nostra ultima Night Potion, che dovremmo usare per forza. E poi devo andare a fare il rifornimento di quella roba lì, perché serve. Di generazione 2, guarda, bello, ma non credo che ci serva molto. Andiamo avanti? Andiamo avanti, va. Andiamo qui per il momento. Non ho la più minima idea di come comportarmi a riguardo, eh. Lì c'è del ghiaccio. Quello che cos'è? Corallo? Questo posto sembra davvero enorme. Aia, devo ricordarmi che non ho l'armatura. Questo è fungo. Allora, rompiamo le cose che possiamo romper, va. Allora, di qui si è detto... Questa posso prenderla? Grazie. Ecco, no, perché le teste comunque non sono facili da recuperare. Di lì siamo pieni di candele, ma solo di candele a quanto pare. Di qui non vedo shulker cosi. Giusto? Eh, guarda quanti ce ne sono prosti, maledetti. bisogno di stare attentissimi. Che se è dietro l'angolo, siamo fregati. Ok, sembra... Ah, eccolo. Eccolo lì. Stavo per fare una cappellata di quelle proprio brutte. cappellata massima, potremmo chiamarla. Ok. Ora, se io cammino... Non parte niente, top. Oh, qualcuno stava urlando? Madonna raga, che ansia! Ma io spero che si trovi qualcosa di davvero fighissimo qua dentro, perché altrimenti non so se ne vale la pena. Ok, ok, dai. Un po' alla volta. Una volta si va avanti. Possiamo distruggere questo ora? No, guarda, teniamolo chiuso. Se possiamo tenerlo chiuso, teniamolo chiuso. Ma cazzo, anche qua sopra, pezzo di merda. Mi sta pure finendo la netvision, giustamente. No, chiaramente la... Riabilitiamo subito. Allora, di qui sembrerebbe non esserci nulla, ma io lì in fondo... No, no, no. Vedi che secondo me c'è qualcos'altro. In cima qui... Ce n'è per for... Ah, eccolo. Maledetto. Ok, madonna, raga, ma è così viene un infarto, però, eh. Ma per l'ansia. Non tanto per altro. Guarda, qui siamo pieni. Vai così, ok. Abbiamo un altro di qui. Andiamo a rendere... Blocchiamolo il più possibile a sto maledetto. E sono due. C'è un terzo? Uh, un diamante. Bello. Qui non c'è nulla. Devo distruggere sti cosi? Vediamo se funziona. Vediamo se ci trattiamo nella merda oppure no. Non arriveranno mica finora in fondo, dai. Ok. Ok, fantastico. Fantastico. Prendiamo i diamanti. No, che cazzo dico? Non c'ho... Non c'ho piccone. Vabbè. Uno, due, tre, quattro. C'è qualcosa di figo qua dentro, ragazzi, per forza. E lì c'è un altro ancora. Guarda. Ah, sì, c'è una cesta là sopra. Allora, proviamo a salire qui in alto. E a bloccare tutti questi. Ma non so se ce la facciamo. Allora. Qui facciamo una cosa di questo. Eh, vabbè, ma tu sei proprio un pezzo di merda. Come faccio qui? Impossibile. Lasciamoli a se stessi. Una cosa mi viene in mente. Che ansia incredibile. Uno, due, c'è un altro lì. Come se non bastasse. Ah, e lì ci sono altre ceste? No, regà, io non ne ho la forza io di esplorare una roba del genere. Cioè, mi dico, cosa stiamo parlando? Ma hai bisogno di una squadra? Devi farlo su un server con 800 operaio e fare una roba del genere. C'è un altro lì in fondo, c'è un altro lì. Se per sbaglio aprivo questa roba, era finita. Giusto per dirvelo. Pieno. Un disastro. Allora. La madonna. Stoppa queste cose. Stoppa le tutte. Ok. Ok, andiamo lì sopra, tipo subito. Andiamo di muovere l'ultimo che abbiamo qui. Vediamo cosa c'è in queste ceste. Poi proviamo a prendere anche l'altro, ma... Ho un piccolo dubbio. Stiamo attenti a non calpestare nulla. Fai così, fai così, fai così. E fai così. Ok. Ora, qui comunque non tocchiamo niente, perché prima... Voglio vedere se qui ce ne sono altri, perché ce n'erano altri. Ma poi mi viene da stare in silenzio anche io, quando in realtà non è necessario. Capito? È quel livello di paranoia. Proprio di paura di far cappellate, potremmo chiamarla. Come salgo io qua? Andiamo ad andare dal lato. Facciamo così. Ok. Qua sono solo sti maledettissimi. Ma non c'era anche un altro di quegli elementi lì? Ok. Allora, se tutto va secondo i piani, noi potremmo ora distruggere sta roba. Giusto? Ok, 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 ok. No, poteva andare molto peggio. Oh. Ma penso se fossi risvegliato, non lo so. Grande bazar della morte. Allora, rompiamo questi. Cosa c'è qua dentro? Dimmi una cosa di bello. Delle glow berries. Ecco, skulk sensor. Sempre bellini, perché magari poi possiamo combinarli, fare delle robe. Prendiamo anche i libri, che comunque sono costosi. E il carbone. Va bene. Non c'è niente altro di molto utile qui. Distruggiamo questo. 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 E andiamo dall'altro lato. Vediamo che c'è qua. Due ceste sono. Vediamo se possono distruggere questi. Ok, sembrerebbe che ce la facciamo. Siamo comunque molto attenti, perché un secondo qui a nascondere dei sensori maledetti e a morire come dei cani. Siamo a posto? Ok, dovremmo essere a posto. Urca. Urchissima. Ok. Dovremmo essere safe. È bello. Questo? Skulk, vabbè, ce l'abbiamo già. Vabbè, raccogliamolo. Siamo qui. Pozzone di generazione. Guarda, prendiamola, perché se ce lo propone non è che ci siamo qui a lamentarci le ossa, ma vediamo anche le ossa che ci frega. Vai, ti piglia tutto. Piglia tutto. Andiamo dall'altro lato. C'è un altro sensore. Ah, è in alto. Hai detto, guarda, ti distruggo perché non voglio sentire i rumori proprio io. Ah, che goduria. E qui, candele, bello. Bello. Un'armatura di diamante, niente male. Prendiamo anche tutti gli altri libri, che sono pini di libri, così, eh. Looting 2, bello. Project Air Protection, non ci interessa. Ok. Sto sprecando energia a manetta per fare questa cosa, eh. Proprio energia go-go. Ahia, mi scordo sempre che non c'ho. Allora, cos'è la cosa più bella che possiamo trovare qua dentro? Ma non è una più minima idea. Non è una più minima idea. Dovrei controllare. Andiamo a rendere in noco quel coso, maledetto. Minchia, è qui. Qui è proprio tosta. Solo quello, ce ne sono due. Ok, quello è un Catalyst. Come ci arrivo io là sopra? A parte che sbellucica tutto molto bellino. Poi sta per terminare la mia bellissima e simpaticissima, come si chiama? Fai così. Facciamo così. Era l'unico? Non ti prego, dimmi di sì. Guarda, se non sapendo la gente scrive, provo anche a salire qua sopra. Vedere se c'è un altro sensore. Ok, no. Vedi? Mi sta per finire di nuovo la Net Vision. Come passa il tempo? Sto per morire? Ok, no, dai, ce la caviamo. Allora, ora è tutto buio. Mi fa tutto ancora molta più paura. Ma almeno non vengono illuminati. Che dire? Potremmo andare peggio. No, però così buio non si può fare. Cioè, così al buio è proprio da un infarto. No, no, no. No, no, no. Non ha capito il gioco, il bro. No. E di qua posso andarci? No, no. Secondo me devo andare di qua? Sì, dove c'è la lana? Piazza una torcia. No, io voglio tornare a casa, ragazzi. Voglio la mamma. Devo dire, oh, minca che caga sotto. Sì, senza Net Vision io qua non faccio un cazzo. Me ne torno a casa. Ma quanta l'hanno bisogno poi io per fare sta roba? Troppa. Tutta l'hanno nel mondo. Devo vedere se con i tappettini funziona. Ma no, ho visto il tutorial con i tappettini non funziona un cazzo. Non funziona. Sta salendo... C'ho un'ansia incredibile. Ora è tutto buio. Si viene ancora di meno. Aiuto. Aiuto. Allora, è più l'ansia che non... Il vantaggio di essere qui. Beh, se ci ragiono. Che vantaggio mi dà essere qui? I drop? Va bene. Ma cosa mi dà di bello? Le candele? Le ametiste? Ce l'ho già, ste robe. Looting mettiamo da parte. Metti qua. No, pieno. Mettiamolo di qua, dai. Disc fragment metti da parte. Non lo so. Cioè, non lo... Ho dei dubbi. Ho dei dubbi. Devo cercare cos'è la cosa più fia che si può trovare. Perché sicuramente Swift Sneak Sneak vai veloce ed è figo. Allora, vediamo. Questa è la cosa più figa che posso trovare qua dentro. Curiosità. Curiosità personale. Ora, cioè, proprio sentiamo nel view. Allora, ancient city drop. Loot. Eccolo qua. Allora. Average per chest. Chance. Ok. La cosa... Ah, silence armor trim. Ok. Trim oppure... Basta. Prima di trim sulla cosa più rara. E a quanto pare sì. È il trim sarebbe figo da trovare. Va bene, signore. Bisogna fare un po' di scorpacciate, di equipaggiamento. Ma si torna dentro. Nell'oblio. Questa ancient city. Maledetta. Un'internità per trovarla. Non lo so. Mi fa una paura davvero... Mi fa tanta paura. Comunque, per il momento è tutto, signore. Ci vediamo domani alle 7. E con la prossima tarima in cartita. Ciao a tutti a tutti.